E' stata riformata parzialmente la sentenza del TAR di Catania emessa nel luglio scorso riguardante la procedura di gara indetta dal comune di Caprileone per l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale denominato Bambi per 31 mesi. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l'appello proposto dalla cooperativa sociale Amantea rappresentata dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraia oppostati al comune di Caprileone rappresentato dall'avvocato Stefano Polizzotto. L'appello è stato presentato nei confronti dell'associazione Ialite Ollus nella qualità di mandataria della costituenda associazione temporale di imprese con la società cooperativa sociale Kairos rappresentata dall'avvocato Benedetta Caruso. Il CGA oltre ad accogliere il ricorso ha respinto il ricorso introduttivo di primo grado e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di primo grado. Il TAR di Catania aveva giudicato illegittimo il provvedimento di esclusione dell'associazione Ialite Ollus e la revoca dell'aggiudicazione provvisoria che era stata disposta a suo favore. Invece il CGA ha giudicato infondato il ricorso introduttivo di primo grado e per questo deve essere respinto. Da qui la riforma di quanto era stato disposto dal TAR che invece aveva accolto le richieste dell'associazione Ialite Ollus.